Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In direzione Cecina, sulla statale Trebis, Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Balsavignone e Canili e chiuso per lavori di manutenzione, lo svincolo di Canili. Sulla statale 12 è della Betone e del Brennero, senso unico alternato per lavori tra bagni di Lucca e fabbriche. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!